E ben a tutti ragazzi dal vostro YT Tom L2 che vi parla Ragazzi sono ubriacatissimo ma davvero tantissimo No sto scherzando Comunque se non avete visto la live ragazzi c'ho un mal di testa Se non avete visto la live ragazzi stasera sono stato fuori Non ho potuto fare la live Se sentirete le cose più volte perché davvero mamma mia non potete capire che è un macello Che è un gesto stasera Allora Sono scordato quello che devo dire Allora ce la posso fare Mi raccomando No Allora Essendo che stasera c'è stato l'evento Mi venite ieri Mi potete parlare per quanto riguarda l'evento Se qualcuno di voi mi può parlare per quanto riguarda l'evento Perché ragazzi io davvero non l'ho potuto vedere È stato bello, non è stato bello Ha fatto schifo Ditemi voi E non volevo dire che io vi voglio bene Non ho potuto fare la live E che dire Io ragazzi vi saluto Molto probabilmente andrò a letto E la live la faremo domani La faremo domani tranquilli Io ragazzi vi voglio bene E E E Niente Poi mi farete sapere sotto nei commenti Come è stato l'evento E Niente E niente Se mi vedete È così ragazzi E Proprio andato sono Sono andato Stanchissimo Stanchissimo proprio Ragazzi io voglio bene Vi do un bacio Un abbraccio Di tutto E noi ci vediamo domani Con una nuova live Ciao belli Questo vuole bene